Con le politiche ormai è un passo e con la possibilità di un election day che accorpi alle elezioni nazionali e anche le regionali, il Partito Democratico Provinciale traccia un primo bilancio del percorso che porterà al voto tra alleanze ancora da definire e un campo progressista da riuscire a mantenere nonostante segnali di rottura che arrivano da Roma. Primo step dunque le politiche del 25 settembre dove i dem dovranno giocarsela con il fronte compatto delle destre con in testa Fratelli d'Italia. Noi siamo pronti per mettere in campo un progetto che è alternativo a una coalizione che ha come asse portante Salvini e Lameloni. Noi siamo un'altra cosa, siamo per un paese che stia ancorato nell'Occidente, per un paese che sia ancorato alle sue tradizioni migliori. Noi pensiamo che bisogna ripartire tra tre grandi questioni. La prima questione è la questione del lavoro, del lavoro buono. La seconda questione è la questione meridionale. Il mezzogiorno come una straordinaria opportunità. Ci viene complicato capire come Salvini, Bossi, Calderoni e Lameloni potranno garantire le prospettive per il mezzogiorno. Infine noi rimettiamo in campo quello che da mesi e anni sosteniamo, che è la questione morale che qualcuno ha dimenticato, compreso i nostri avversari, e che per noi resta il centro della discussione politica per poter fare politica. Per i dem al momento per le politiche si va verso il fronte allargato al centro, lasciando fuori i 5 stelle. A livello nazionale chi è responsabile della caduta del governo Draghi oggi non può stare dalla nostra parte. Questa è la scelta nazionale che condividiamo, perché di fatto si è stato un assist agli amici di Orban e di Putin, alla Lameloni, a Salvini e a Bossi. Noi crediamo invece un'altra cosa, che a livello nazionale bisogna costruire una grande coalizione europeista, e questo si sta mettendo in campo, che rimetta appunto al centro dell'agenda politica il lavoro, il lavoro buono, le imprese sane del mezzogiorno. Insomma, una grande paese che ritorni ad essere protagonista in Europa e nel Mediterraneo. Equilibri che qui in Sicilia però potrebbero modificarsi qualora Musumeci decidesse di dimettersi portando la Sicilia verso l'Election Day. Andare a votare con 20 giorni di differenza sarebbe un disastro, perché significherebbe chiedere ai siciliani di votare due volte, e non cosa secondaria, voglio ricordare che questo avrebbe un aggravio finanziario di circa 20 milioni di euro. Quindi Musumeci, la nostra è una posizione abbastanza netta, si dimette, permette ai siciliani di poter votare per le politiche e per le regionali senza fare calcoli. Il campo progressista reggerà, mi sembra evidente, perché oggi tra l'altro c'è anche una dichiarazione di un autorevole esponente al Movimento 5 Stelle, che dice che quelle primarie hanno un senso, io credo che ho differenziato e dobbiamo differenziare la Sicilia dal Paese.